Salve amici, siamo al centro di Scalea sull'isola pedonale perché oggi anche a Scalea c'è il banchetto per le firme contro questa legge Spacca Italia che si chiama autonomia differenziata, come sapete voluta fermamente dalla Lega, lasciamo perdere i motivi di accordo fra Lega e Fratelli d'Italia, ma passiamo subito al concetto dell'autonomia differenziata, vale a dire che chi ha più soldi se li tiene, chi ha meno soldi soffre ancora, ma c'è ancora una cosa importante, faccio un esempio per tutti, adesso vedo un bimbo che sta passeggiando con i genitori e quindi mi viene in mente una cosa, se veramente dobbiamo essere per tutto attrazione regionale, immaginate già la sanità e attrazione regionale, vale a dire che tutta la sanità in Calabria per esempio è gestita dalla regione, così sarà anche per le scuole, quindi avremo 20 scuole regionali e non più la scuola statale che già tra nord e sud c'è la differenza, immaginiamo domani se non abbiamo soldi per curare le persone ammalate, come riusciamo ad avere i soldi per far sì che i ragazzi possano andare in una scuola ben indottrinati, ben istruiti e ben accolti nelle strutture, già questo è un esempio, ma poi vorrei chiudere perché vorrei fare anche qualche intervista chiaramente dicendo sicuramente noi potremmo fare lo spacca Italia, la cosiddetta secessione, la separazione, tutto quello che vogliamo, ma lo dico apertamente come dicono tanti amici, voi del nord ridateci i 70 miliardi all'anno per 20 anni almeno che ci avete sottratto, rimettete a posto le percentuali del PNRR rispetto al 10 se no per cento che vorreste mandare al sud e noi cominciamo a camminare con le nostre gambe. Finisco dicendo la favoletta che noi al sud non siamo capaci di fare impresa se la possono tenere come le del nord, sapete perché? Perché il nord è stato fatto, ormai si sa da più di 150 anni, con la depretazione orientazione prima economica e poi di braccia e menti del sud, va bene? Se ci date la possibilità noi dimostriamo ancora una volta dopo 3.000 anni il sud che cos'è. Buonasera Gaetano, oggi siamo qui in veste di rappresentanti del Movimento 5 Stelle perché avete fatto il banchetto, finalmente anche a Scalea stiamo cercando di dare il meglio per far capire che cos'è questa autonomia differenziata. Sì, stiamo raccogliendo le firme contro questa autonomia differenziata perché il concetto di autonomia differenziata non è di per sé sbagliato, è sbagliato il modo, sono sbagliati i tempi in cui questa riforma è stata portata a votazione ed è sembrata chiaramente un'operazione più di scambio elettorale che non di visione politica, quindi il popolo non può subirlo. La testimonianza di oltre 220.000 firme in soli tre giorni dal momento in cui è partita la raccolta la dice lunga, chiaramente poi la difficoltà vera sarà portare la gente a votare e a superare il quorum, però se come immagino si arriverà a superare di gran lunga le 300.000 firme, la politica dovrebbe farsi davvero una seria riflessione, una serie di interrogativi su come ha portato avanti questo tipo di discorso. perché è vero che siamo tutti uguali ma lo dobbiamo essere nella sostanza e non solo sulla carta, quindi dividere l'Italia in 20 autonomie dove le differenze già sono forti adesso e si potrebbero, anzi si accentuerebbero con questa riforma, penso che sia una condanna netta per le regioni più povere e noi da calabresi e da meridionali non ce lo possiamo permettere. Ecco proprio questo io dicevo sempre, non l'ho accennato nell'introduzione che ho fatto poco fa ma purtroppo ancora oggi dopo tantissimi decenni molti molti politici del sud sono noi diciamo nel mio gruppo camellati, cioè pronti a vendersi per un pezzo di pane, per 45 voti eccetera eccetera, no? E alla fine vincono sempre loro se noi camminiamo a spalle chine. Il concetto di rappresentanza è molto chiaro, chi viene eletto in una regione, in un territorio o in una provincia deve rappresentare le esigenze di quelle popolazioni. I parlamentari calabresi devono fare uno scatto di orgoglio al di là delle maglie e dei colori politici e devono far capire con delle ragioni chiare e con delle ragioni oggettive che questa riforma non è una riforma equa, che non rispetta i principi e i valori della Costituzione. è molto semplice, è molto più semplice di quanto si possa tentare di argomentare. Di fronte a una riforma che porta una differenziazione dei servizi essenziali che già sono veramente scarsi nelle regioni del sud, scuola e sanità su tutti, non possiamo permettere come popolo e soprattutto come politici rappresentanti di queste popolazioni che questo possa continuare. Mi fa piacere che anche il governatore della Calabria abbia avuto questo scatto d'orgoglio, seppur tardivo, però adesso bisogna essere conseguenziali e quindi dal basso fino all'ultimo livello istituzionale è più importante ragionare su come riformulare questa riforma e questa legge perché diventi efficace e produttiva per tutti i cittadini italiani che è unica e indivisibile. Buonasera signora, anche lei qui per firmare contro questa autonomia differenziata. La trovo una cosa indecente perché comunque l'Italia è una, abbiamo lavorato tanto per creare l'Italia Unita, sono millenni insomma che facciamo questo, però io non sono d'accordo per cui mi sono predisposta a firmare e mi auguro che si riuscirà a tirar fuori tutte queste firme e che non verranno magari infossate, quindi perché è una cosa che necessita perché l'Italia non può essere divisa anche perché il Sud ne va particolarmente poi ad inficiare, quindi assolutamente no. Buonasera Cristiana, finalmente ci siamo col banchetto per le firme contro l'autonomia differenziata perché veramente questa legge spacca Italia, non si può proprio sentire no? Sì, infatti il motto dei 5 Stelle è l'Italia non si spacca, quindi è proprio questo l'intento. Siamo felici perché effettivamente online sono già state raccolte oltre 200 firme, dobbiamo arrivare a 500 mila, però siamo fiduciosi che ci arriveremo a breve. La gente risponde, mi auguro non soltanto la gente del Sud perché l'Italia deve essere unita nei servizi e la carta costituzionale ci garantisce, quindi dobbiamo essere uguali in qualsiasi luogo si nasca e quindi questo è importante per noi tutti gli italiani, non solo noi del Sud.